Siamo a Bologna, in Vio Gobassi, durante i cantieri Bobo, in occasione dello scavo archeologico che stanno effettuando, dovuto alla scoperta di reperti di epoca rinascimentale. Chiediamo ad alcuni archeologi quali sono le impressioni del pubblico, dei passanti sugli scavi che stanno conducendo. Quali sono le domande più frequenti che vi fanno, sono interessati, vogliono sapere di più di quello che state scoprendo? Sì, ma io sono qua da una settimana e mi pare che le impressioni siano positive del pubblico che passa, c'è molto interesse, chiedono l'epoca, delle strutture e quant'altro. Sì, appunto come ha appena detto il mio collega, la gente è molto interessata, ci chiede di che epoca risalgono i rinvenimenti. E' positiva l'impressione che ho avuto, non mi aspettavo così tanto interesse. E se mi dovessi descrivere il tipo di pubblico che si ferma e che fa le domande? Sono più giovani, anziani? Ma è abbastanza eterogeneo il pubblico, quindi da ieri per esempio si è fermata una professoressa universitaria col suo gruppo e quindi ha fatto domande magari un po' più specifiche sul caso, anziani o ragazzi o donne col passeggino, però gli stranieri hanno la domanda di rito è ma poi cosa ne fate? Vabbè, mestamente si deve rispondere, poi qua finito tutto, butteranno il cemento. La sua idea di archeologia? Copriamo tutto! Copriamo tutto!